salve a tutti e come avete notato questo video ha subito un ritardo nella programmazione solita e questo è dovuto al caldo quindi anche le macchine della sala di registrazione diciamo che soffrono il caldo e inesorabilmente vanno in tilt bene parliamo del tema del seme della parola di dio un primo pensiero che mi viene in mente così com'è me lo suggerisce lo spirito santo capita ogni tanto in una cosa cristiana non dovrebbe mai mancare il libro delle sacre scritture che è un libro più venduto al mondo ma anche il meno letto quando vado in visita gli ammalati trovo sempre un altarino una madonnina alcuni santi foto di defunti un lumino sempre acceso e trovo anche la bibbia aperta ma non come un soprammobile ma la bibbia aperta su una pagina specifica che ci dice ogni cosa a prescindere da ciò che sta scritto allora mi viene spontaneo suggerire una riflessione fatta di domande nella mia casa c'è il libro delle sacre scritture aperto su un leggio nella mia casa c'è un angolo della preghiera nella mia casa o la possibilità di trovare lo spazio temporale per leggere la sacra scrittura per pregare il salterio queste sono domande fondamentali altrimenti noi facciamo la solita predica che è una cosa bella assai ci sono momenti nella mia vita in cui effettivamente sento il bisogno del sacro sento il bisogno di scrutare con maggior profondità ciò che il signore vi dice in questo momento e capita a volte che apriamo la bibbia così a caso per cogliere la parola di dio e magari leggiamo una frase o una pericope che ci illumina che ci dice cosa dobbiamo fare nella nostra situazione e tutto diventa chiaro tutto diventa vero questa è la verità ponzo pilato si domandava turbato che cosa è la verità è questa tutto qua è una parola di vita in una situazione difficile e dio che ci parla o meglio è la verità che ci parla e neutralizza la menzogna la falsità degli eventi in cui ci troviamo e all'improvviso capiamo tutto cari seguaci tutti noi viviamo una grande profondità da questo punto di vista conosco la sacra scrittura non solo riesco e riusciamo a trasmettere l'immagine tipo che traspare dalla sacra scrittura su questo punto io e i miei collaboratori lavoriamo moltissimo e con grandi risultati e soddisfazioni a questo proposito riprendo le parole del vangelo di ieri la parola ci parla di un seme o meglio di di tanti semi gettati dappertutto ossere dire che il signore è generoso se voi vedete i campi incolti vedrete piante selvatiche e piante infestanti che nascono dappertutto persino nelle crepe dell'asfalto o tra le fugature dei mattoni il signore butta il seme della sua parola non come farebbe un ortolano nei solchi in piena terra a distanze prestabilite nelle file e tra le file no c'è una generosità estrema una parola donata per tutti e dico per tutti nessuno è escluso l'immagine della parabola parla di vari terreni parla di un terreno sassoso di un terreno spinoso di un terreno esposto al sole parla di un terreno calpestato dagli uomini un terreno durissimo da penetrare se dovessimo paragonare il terreno della parabola potremmo recuperare immagini di questo tipo la parola viene sparsa su poveri e ricchi sani e ammalati esclusi e inclusi su tutti viene gettata la parola di dio e gesù da questo punto di vista non ha alcuna preferenza ma chiede a ognuno di noi di interagire con quel seme con la parola trasmettendo la parola soprattutto con i fatti e non solo ci chiede di far crescere quel seme nella nostra vita questo è il significato della parabola c'è un cento un sessanta c'è un trenta attenzione questi non sono voti di un esame universitario tutti sono premiati attenzione a non mettere in bocca a gesù parole che sono più nostre gesù dona e su questo tema ci sono parabole simili per esempio la parabola dei talenti cinque volte tanto dieci volte tanto e poi c'è il caso di un solo talento allora cosa facciamo a volte per paura di investire talento lo abbiamo sepolto gesù che dice scellerato potevi almeno darlo a un banchiere qualche interesse lo avrebbe almeno ottenuto il problema di dio non è un problema di tipo matematico o di quantità di cose da fare tutti alla fine sono premiati per le loro azioni buone nella misura del possibile faccio un esempio nella preghiera in questo periodo è difficile pregare fa caldo e san giovanni bosco diceva che l'estate è la vendemmia del diavolo ci sono molte distrazioni ci sono molte malizie ci sono tante cose e siamo poco concentrati ma se nel cuore della notte prima che sorge la notte prima che sorge l'alba io mi sveglio sempre alle 4 del mattino che di ancora buio bene appena si è alzati diciamo gesù lode e onore a te grazie per la vita che mi dai grazie perché mi dai sempre occasioni per amare per amare qualcuno o qualcosa bene se lo diciamo col cuore il padre eterno si commuove a sentire queste preghiere non una preghiera detta a memoria come una filastrocca che non finisce mai di cui non sappiamo neanche significato delle parole che pronunciamo cari amici e cari amiche per dio non ci sono buoni e cattivi in primo piano c'è la misericordia dio ha compassione anche del peccatore non anche soprattutto del peccatore se in questo mondo città cattiveria resta quell'amore che ognuno di noi ha saputo trasmettere e io rimango sconcertato quando uomini di chiesa si riducono a terreni sassosi a terreni pieni di spine a terreni durissimi dove anche la parola di dio non riesce a penetrare perché questo succede perché queste persone di gesù hanno semplicemente una infarinatura un sentito dire la bc di alcune nozioni davanti a tutte queste pietà popolari dove io mi inchino e chi non può inchinarsi nella casa di dio bene la fede è un'altra cosa la fede è un'altra cosa e quindi proviamo a cercare l'essenziale è l'essenziale ce lo abbiamo non chissà dove il deuteronomio dice non è troppo in alto né troppo in basso né troppo lontano è dentro il tuo cuore dentro il tuo cuore e ancora sant'agostino dice entra dentro di me bellezza antica ti cercavo ovunque e tu eri dentro di me ecco perché bisogna accogliere il seme nella parola di dio e farla germinare farla germinare e con questo video è tutto è un arrivederci al prossimo video